Sembra essere priva di fondamento la notizia dell'avvistamento di uno squalo nel tratto di mare a nord di Ancona uscita sulla stampa locale alcuni giorni fa. I bagnanti della zona possono stare tranquilli. Riteniamo che questa notizia non abbia un forte fondamento anche perché dagli accertamenti che abbiamo quindi fatto in relazione alle notizie a parte sulla stampa, anche da questi accertamenti non abbiamo rilevato testimonianze che in maniera chiara ci dicessero e ci confermassero tali avvistamenti. Nel frattempo prosegue l'operazione della Capitaneria di Porto d'Orica, Mare Sicuro, iniziata a giugno e che terminerà a settembre. Durante questa operazione abbiamo impiegato lungo tutta la costiera marchigiana, cioè lungo tutti i 160, 166 km di costa della nostra regione, pattuglie via terra e unità navali via mare. L'operazione sinora ha dato buoni riscontri e siamo soddisfatti di come stiamo procedendo.